Come ogni anno qui a Guardavalle partecipiamo alla giornata nazionale della strada, quest'anno il 21 settembre, la settima giornata nazionale della lotta alla strada. Siamo qui per aiutare la ricerca, siamo qui per ricordare le persone che di Guardavalle sono scomparse per questa malattia, siamo qui per aiutare oltre 6 mila pazienti che in tutta Italia purtroppo hanno questa malattia. Oggi la ricerca ha fatto passi da gigante, però ancora purtroppo non c'è una soluzione per questa malattia. Noi siamo ogni anno qui, insieme anche a Guardavalle online, a raccogliere fondi, ad offrire questa bottiglia di vino Barbera Doc che con 10 euro si può avere. Quindi un contributo versato con gusto, questa è l'iniziativa. Ogni anno Guardavalle risponde bene, già possiamo dire che le 200 bottiglie di vino le venderemo tutti e quindi grazie a tutte le persone che verranno oggi al banchetto, grazie alla Guardavalle online che è sempre vicino a noi e grazie anche all'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità gratuitamente del banchetto e quindi un saluto alle nostre prossime edizioni e arrivederci a tutti. Grazie, grazie.